In arrivo in via San Pietro e il Lama un nuovo polo didattico dal valore di 15 milioni di euro. Il bando è stato pubblicato sul sito della provincia dello stesso assessore a ramo Massimo Como a confermare le intenzioni di Palazzo dei Celestini. Con la creazione di un nuovo edificio didattico che sia modulare, dice vale a dire che si presti ad accogliere tutti gli indirizzi di scuola superiore, si conferma l'azione della provincia che va nella direzione dell'abolizione dei fitti passivi che, aggiunge, per il solo comune capoluogo si aggirano circa un milione e mezzo di euro all'anno. Una cifra molto alta, per questo Palazzo dei Celestini ha optato per la creazione di un edificio ex novo che sorgerà sulla strada per San Pietro e il Lama su un'area di proprietà della provincia di Lecce. L'edificio avrà ben oltre 30 aule con annessi laboratori. Sul sito della provincia di Lecce è stato pubblicato un bando per l'affidamento della progettazione esecutiva mediante una locazione finanziaria. Vuol dire che la ditta che si aggiudicherà alla progettazione avrà anche la realizzazione dell'opera. La provincia, dal canto suo, sta avviando una nuova formula di investimento. In seguito alla difficoltà di accesso alla cassa depositi e prestiti, Palazzo dei Celestini si affiderà alla formula del leasing. L'ente prenderà in locazione l'immobile per 25 anni, dopodiché resterà nelle mani dell'amministrazione provinciale che, di sicuro, stando al decreto Monti, fra cinque lustri sarà già ampiamente abolita. Nel frattempo l'appuntamento è il prossimo 2 aprile con la presentazione in conferenza stampa presso Palazzo Adorno del progetto che darà alla città di Lecce una nuova scuola superiore.